Mi hanno chiesto come fare ad eliminare le email suggerite da Google. Ogni volta che digiti l'indirizzo di qualcuno o ricevi una mail, Google ne memorizza automaticamente l'indirizzo nel tuo account Google. Viene fatto per semplificarti la vita. Ogni volta che vorrai contattare quella persona, dovrai solo iniziare a digitarne l'indirizzo e adesso verrà completato automaticamente. L'account Google è un contenitore di informazioni che ti riguardano. È associato ad un email, molto spesso una Gmail, anche se è possibile avere account Google associati a caselle email diverse da Gmail. Queste informazioni vengono utilizzate da tutti i servizi Google. Hangouts, ad esempio, utilizza il tuo nome e cognome per mostrarlo alla persona con cui stai giattando. Per disattivare questa funzionalità devi collegarti al tuo account Google, andare nelle impostazioni e disattivare il salvataggio automatico dei contatti. Puoi anche eliminare selettivamente i contatti che non vuoi più mantenere in memoria. Grazie a tutti.